Giungiamo alla fine del nostro sentiero a incrociarne un altro andando a destra andiamo in zone sconosciute andando a sinistra torneremo dove eravamo prima però non so quale sinistra perché ci sono un milione di bivi 1, 2, 3, 4, 5 e il testo da cui proseguiamo da cui proveniamo allora là è chiaramente l'inizio ok e là sarà da dove sono entrati con la bici forse e qua è da dove eravamo prima o quello più a destra questo bivi qua non l'abbiamo mai fatto no qui non siamo ancora stati però si tornerà di qua oppure di qua per riunirsi proviamo